Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a TalkParks e in questo episodio parliamo di leggende o falsi miti perché può succedere che nel corso della storia di un parco di divertimenti, a maggior ragione se il parco in questione ha già diversi anni alle spalle così come ad esempio Garden per prenderlo a caso, può succedere di incappare in qualche voce di corridoio che fa un bel giro diventando una leggenda andando a superare la realtà e in molti casi a sostituirla direttamente ed è un qualcosa che purtroppo succede, anzi soprattutto succede su questa piattaforma che è l'internet con questo dilagare frequente e fin troppo costante di fake news, quindi mi raccomando voi qualsiasi cosa sentiate o leggiate che sia o qua sull'internet o anche e soprattutto nella vita reale, pensate sempre e comunque con la vostra testa mi raccomando però comunque sia, ritornando a noi, in questo episodio andiamo verso queste leggende, queste voci di corridoio che poi diventano dei miti andando a parlare di 5 leggende su Gardenland che credevamo fossero vere ma che in realtà non lo sono e direi che possiamo partire in molti erroneamente pensano che Gardenland sia stato uno dei primi parchi di divertimento italiani ad essere stato costruito in assoluto in realtà non è proprio così, Gardenland è nato il 19 luglio del 1975 e fin qua siamo tutti d'accordo però in realtà qualche anno prima, intorno al 1965-1966 per la precisione, qui in Italia nascevano già altri due parchi che erano Fiabilandia Rimini ed Edellandia Napoli, tra l'altro a Edellandia sono anche nate le prime scenografie del primo Gardenland quello del periodo 1975, prima degli 80, prima dell'arrivo dei fratelli Mazzoli, ma anche qualcos'altro è nato a Edellandia riferito a Garden, poi più tardi andremo a vedere cosa, ma comunque sia Gardenland è stato semplicemente uno dei tanti parchi italiani ad essere stato costruito a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 90 tra l'altro tra gli anni 70-80 qui in Italia era un proliferare di nuovi parchi che spuntavano come funghi sia in progetti meralizzati che in progetti effettivamente realizzati come ad esempio Grilland, la città satellite di Limbiate e sia Grilland che altri parchi nati in quegli anni purtroppo hanno avuto lo stesso destino, ovvero sono stati chiusi dopo qualche anno ma non Gardenland, Gardenland invece ha continuato, è diventato un parco di successo al punto di diventare il parco numero uno in Italia ma come mai gli altri parchi no e Gardenland si? semplicemente perché Gardenland ha avuto le sue fortune e queste fortune hanno un nome Giorgio Tauber per quanto riguarda la direzione e i fratelli Claudio e Valerio Mazzoli per quanto riguarda le scenografie che si vede la loro impronta di Is The Universal dove loro hanno avuto la loro esperienza facendo così quelle scenografie piene di dettagli nascosti se per caso voi volete andare a scoprire qualche dettaglio nascosto o qualche curiosità tra le scenografie del parco giù in descrizione vi lascio il link alla playlist del Garden and Mystery Store dove io e Gibri andiamo alla scoperta di questi particolari nascosti però comunque ritornando alle scenografie, scenografie che oltre ad essere piene di particolari nascosti erano appunto create nei minimi particolari creando così dei microcosmi pregni di quell'atmosfera che coinvolgevano le persone quando andavano ad affrontare l'esperienza che l'attrazione offriva e l'incontro tra le strategie gestionali di Giorgio Tauber e l'arte dei fratelli Mazzoli ha dato vita ad attrazioni che sono diventate leggendarie così come ad esempio la Valle dei Re poi arrivò la Merlin però comunque non voglio tirare anche qua delle frecciatine alla Merlin ma parlando di questa azienda c'è qualche altra diciamo leggenda che aleggia mi capita infatti di sentir dire sia a voce che con i commenti sotto i miei video eh però la Merlin ha fatto anche delle cose buone e non lo metto in dubbio, oddio, sotto la Merlin ci sono stati Raptor e Oblivion anche però due coster in più di dieci anni di gestione diciamo che non sono una buona scusa per difenderla però comunque sia erroneamente si attribuisce alla Merlin anche la nascita e la costruzione di Time Voyagers e Mammut in realtà le cose non sono andate proprio così Time Voyagers e Mammut sono stati fatti sì dopo che la Merlin ha acquistato il parco nel 2006 Time Voyagers nel 2007 e Mammut nel 2008 però queste due attrazioni erano due progetti della vecchia gestione già approvati e successivamente costruiti la Merlin non ha fatto altro che portare a termine questi due progetti che erano già praticamente pronti e iniziando a operare con gli ormai noti tagli infatti la scenografia esterna di Time Voyagers non è proprio uscita come rappresentata nel bozzetto negli artwork ufficiali dell'attrazione infatti non c'hanno radici tutti quei dettagli che avrebbero dato ancora maggiore atmosfera a quella facciata sono stati realizzati solamente i faccioni qualche piccolo dettaglio peccato perché negli artwork era veramente veramente bella d'impatto anche se in quella zona ce l'avrei vista meglio in zona Jungle Rapids più o meno come come stile e Mammut è praticamente un progetto non concluso infatti le rocce dovevano essere meno squadrate di come sono uscite nella realtà ci sarebbero dovuti essere più cunicoli più tunnel e anche l'incontro con il Mammut sarebbe dovuto essere ancora più di impatto e non con il Mammut relegato all'angolo però parlando meglio continuando a parlare di Merlin a Gardaland c'è da fare una piccola premessa o meglio una distinzione tra la Merlin che effettivamente decide i concept diciamo di quello che dovrebbero essere le novità dei parchi e la gestione italiana che ha in mano Gardaland e che è subentrata insieme all'arrivo di Merlin sono due cose diverse perché è vero che la Merlin impone dei concept ma la realizzazione è a discrezione della gestione italiana questa piccola premessa per parlare di altre attrazioni che hanno avuto una nascita differente rispetto a Time Warriors e Mammut parliamo infatti di Ramses in risveglio, Inferis e mettiamoci anche Shaman perché comunque queste tre attrazioni hanno avuto un concept diciamo imposto dalla Merlin ma una realizzazione totalmente italiana infatti la Merlin per queste attrazioni ha solamente previsto il concept ovvero una dark red interattiva per Ramses in risveglio in quegli anni intorno al 2009 le dark red interattive andavano molto di moda un walkthrough horror per Inferis che richiamava un po' i Dungeon questa Midway Attraction nonché marchio che detiene la Merlin insieme ai Sea Life un marchio che nel parco tuttora troviamo è il concept di un VR coaster per Shaman poi la gestione italiana ha pensato dove mettere questi concept facendo per la realtà virtuale una forse scelta del coaster più sbagliata di quella non ce n'era io un VR l'avrei visto molto meglio su Sequoia Adventure perché sarebbe stato prima di tutto un buon modo per rilanciarla e poi anche una facilità nel fare il filmato visto che i movimenti di Sequoia sono solamente avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro ci sarebbero stati molto meno problemi di sincronismo si sarebbe potuto fare un filmato immersivo pieno di dettagli dove nel corso della ride l'ospite poteva immergersi, diciamo, gustare quei dettagli magari puntare su qualche effetto nermistico una sega circolare che sfiorava il carrellino mentre passava di inizio un po' andando a riprendere anche quegli elementi dello spot pubblicitario di Sequoia Adventure e l'unico problema magari di sincronismo sarebbe stato quello di accelerare un po' il momento dell'inversione per le persone sedute nei posti dietro però ci sarebbe stato di io avrei preferito un VR piuttosto che Sequoia Magic Loop così come credo molti di voi preferiscano un VR piuttosto che un pan di stelle però comunque sia andando avanti con Inferis hanno messo questo walkthrough con una scenografia scarna perché era effettivamente scarna si sono poi arrampicati un pochino sugli specchi dicendo, eh, l'abbiamo concepita per essere un'attrazione di trasporto però comunque sia Inferis e Shaman li ho messi vicini perché? perché hanno un destino simile praticamente quello della durata sono due attrazioni record del parco ma record per motivi sbagliati perché comunque Inferis è stato inaugurato nel 2010 a inizio 2012 era già chiusa e Shaman è stato inaugurato, ok, nel 2017 la realtà virtuale ha iniziato a, diciamo, ingranare a lavorare a giugno-luglio se non sbaglio a dicembre non c'era già più cioè quindi forse le due attrazioni che sono durate meno nella storia del parco ma non voglio gufare perché non vorrei mai che arrivi qualche prossimo progetto, qualche prossima attrazione che duri ancora meno, spero di no ma Arams e Sir Risveglio è l'attrazione che forse mi ha dato più rabbia perché un conto se l'intera operazione di restyling e trasformazione dalla Valle dei Re a Arams e Sir Risveglio fossero state date in mano solamente alla Merlin quindi pensando, sai, gli inglesi, una società esterna viene qua, si piglia il parco non conosce molto bene la storia e profana, diciamo, un monumento storico un simbolo del parco ok, potevano avere un po' più di rispetto ma non accetto che lo stravolgimento dalla Valle dei Re a Arams e Sir Risveglio sia stato fatto da una gestione italiana perché dico, caspita, un po' di rispetto per la storia l'avrei e l'avremmo anche gradito un po' di più e la stessa Merlin dopo aver visto i risultati di queste attrazioni è rimasta, diciamo, non molto bene tanto che il famoso congelamento del budget novità di Gardland è stato fatto apposta dopo aver visto come si sono comportati con queste attrazioni infatti non li biasimo perché comunque vi diamo in mano un budget poi ci fate queste cose qua infatti attrazioni come la Forest Incantata piuttosto che Sequoia Magic Loop o il restyling dimenticabile dei Corsari sono stati fatti con il budget manutenzione e non con il budget novità il budget novità l'ha usato poi dopo la Merlin è solo la Merlin per interventi dentro al parco così come Peppa Pigland e Peppa Pigland è quell'area fatta totalmente solo ed esclusivamente da Merlin che è entrata, diciamo, a gamba tesa per quanto riguarda l'installazione delle novità principali del parco non dandoli in mano alla gestione italiana visti i precedenti anche perché da appassionato di Gardland io vengo al parco per voler trovare quelle attrazioni che hanno dato una svolta europea al parco e mi trovo Rams e si risveglio Cribbio! e a proposito del Cribbio Berlusconi perché ho sentito tempo fa affermare che nell'ambito della nascita di Gardland tra i primi azionisti ci fosse stato anche il Silvione Nazionale in realtà non è così Berlusconi non ha partecipato alla nascita di Gardland magari tramite la Fininvest ha partecipato a un'altra nascita di un parco di divertimenti ovvero Mirabilandia nel 1292 ma Berlusconi con Gardland diciamo non c'entra molto con la sua nascita ma con la storia del parco in qualche modo c'entra la sfiora perché Berlusconi tramite Publi Italia 80 che era la società che allora deteneva si è occupato della collaborazione con il parco per quanto riguarda l'aspetto mediatico ovvero passaggio magari di qualche pubblicità in televisione e programmi televisivi che sono stati girati dentro il parco così come ad esempio la sigla di Bim Bum Bam con Paolo Bonolis oppure Bravo Bravissimo con Mike Buongiorno che se non mi ricordo male è stato girato al Teatro Azzurro ma tornando ulteriormente indietro nel tempo parlando della fondazione del parco Livio Furini perché si pensa e l'abbiamo pensato tutti io compreso non lo nascondo che la nascita di Gardland sia nata scusatemi il gioco di parole da un'idea di Furini dopo che ha visitato Disneyland in America in realtà non è così so che è una cosa abbastanza grande sto smantellando distruggendo un pensiero che in molti compreso io ripeto avevamo ma in realtà l'idea di Gardland a Furini non venne visitando Disneyland in America ma visitando Edenlandia Napoli e infatti non solo per il lato scenografico ma anche per diciamo la scintilla dell'idea per far Gardland è nata e partita da Edenlandia Livio Furini visitò Disneyland ma diversi anni dopo la nascita di Gardland Furini non rimase per tutta la vita attaccato a Gardland anzi si staccò dal parco dopo qualche anno e nel 1978 fondò la elettronica animazione una società che si occupava sia della progettazione e costruzione di scenografie in vetro resina che anche della nascita di parchi divertimento tra i quali Hobbyland a Brescia e un parco su Pinocchio purtroppo non venuto a termine per la prematura scomparsa di Furini ma Furini non è stato solamente l'uomo dei parchi divertimento qui in Italia è stato un artista tutto tondo pensate che aveva composto anche varie poesie vari brani musicali così come l'Ave Maria o il Preludio della Buonanotte e nel campo imprenditoriale nel 1963 anno in cui insieme alla moglie e alle figlie si trasferì sul lago di Garda costruì il primo supermercato della zona quindi immaginatevi un uomo che era talmente proiettato in avanti tanto da carpire le potenzialità turistiche che aveva quella zona ovvero il lago di Garda e iniziando a costruire da primo supermercato e poi un vero e proprio parco divertimenti che avrebbe dato sia turismo al lago ma soprattutto dando inizio e forma a quella che è diventata la nostra passione ma comunque sia il video finisce qua scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di queste piccole curiosità se lo sapevate o se volete aggiungere qualcosa e come sempre non mi resta che augurarvi buon divertimento, buona vita, fate i bravi e noi ci rivediamo in un prossimo video o in un prossimo episodio sempre qua a TalkParks Ciao!